100, me li mette in ordine di apprezzamento dal migliore al peggiore? No, non mi va, perché le ripeto, Mussolini, Giolitti, Aldo Moro, Berlusconi, De Gasperi. La definizione di statista non è una palmares di un concorso di bellezza, la definizione di statista è uomo-donna di Stato, punto. Chiunque abbia avuto un ruolo in un istituto governativo è uno statista, lo era Stalin. No, io so poche cose, è lei che dice che io so. Lei sa che in Italia Mussolini è giudicato in un certo modo, leggi razziali, quant'altro. Se io facessi questa domanda a un deputato tedesco, Alternative for Deutschland poche settimane fa ha sbattuto fuori dal partito un signore che aveva fatto l'elogio delle SS. Io non sto facendo l'elogio di nessuno. Quindi scusi se insisto, ma le dico un giudizio definitivo sul fatto che il fascismo è un crimine, e il fascismo in quanto movimento politico, lei capisce che in Germania su questo sono severissimi. Il fascismo è terminato 80 anni fa, ma è già stato giudicato dalla storia. Ma perché lei mi chiede di giudicare un qualcosa che è stato giudicato? Perché Alternative for Deutschland, che è un partito che fino a poco tempo fa era alleato di Sandini. Perché mi chiede di giudicare il fascismo e non mi chiede di giudicare Napoleone? Perché Napoleone è in Francia, noi siamo in Italia. Va bene, allora perché non mi chiede di giudicare l'impero romano? E cosa pensa dell'impero romano che ha impatto nella storia di oggi? Tutto ha un impatto, perché noi siamo la storia. Grazie a Luigi Manconi, grazie al generale Vannacci, Elisla entra poco con noi, le faccio risentire, mentre lei esce l'inno dell'Italia.